Le fondamenta del cristiano, carissimi amici, risalgono nella esperienza personale, concreta e vissuta dell'amore di Dio. Senza questa esperienza, che non è catechismo, che non è teologia, che non è dogmatica, che non è un insegnamento, ma un sperimentare personalmente nella propria vita, nella propria famiglia, che Dio mi ama, che Dio è amore. E dopo che ci avrà donato questo amore e noi lo accogliamo, allora sì, potremo essere misericordiosi, potremo amare come ama Lui, potremo donare come dona Lui, fratelli e sorelle. È una dinamica divina, direi, perché è da Dio che viene e l'uomo compie ciò che ha imparato da Lui. Siate misericordiosi come il Padre vostro.